Senza buono e innocentini, ultimo allenamento in casa San Giovannese verso città di Castello con l'anticipo a domani su richiesta del sodalizio Umbro. Lo scorso anno giocare un giorno prima apportò una sonora sconfitta in quel di Rieti, ma quello fu anche l'ultimo stop ufficiale della stagione, conclusa poi increscendo fino alle soglie dei play-off. Il mercato si è esaurito senza particolari sussulti dopo la partenza di Invernizzi e Castaldo e di chi aveva trovato uno spazio vicino allo zero fino ad oggi e gli inserimenti successivi di De Angelis, Pezzati e Iacquinandi. Tutto rimarrà così, a meno che a gennaio non arrivi un'occasione dai professionisti, ma non ci saranno partenze, nonostante sia arrivata anche un'offerta nelle ultimissime ore per svincolare De Angelis con destinazione massese. Una proposta indecente la chiamerebbero ad Hollywood, dato che il centro avanti era arrivato pochi giorni prima fortemente voluto dalla dirigenza. Formazione e modulo confermati per domani 4-2-3-1 nel quale scalerà al centro della difesa Bini con Martinelli a sinistra, ancora Bettoni in porta. Dirige Andrea Cattaneo di Civitavecchia al primo anno di Serie D.